Ed eccoci qua, buon pomeriggio sera a tutti voi, un altro venerdì, un altro inizio di fine settimana, un'altra estrazione domani sera, sesta estrazione nel mese di novembre. Come promesso allora nuova previsione, quella previsione con 26-25 Firenze-Roma, con i suoi abbinamenti, chi la vorrà proseguire ancora? Due colpi fino ad arrivare a un massimo di nove e non di più. Questa previsione invece nuova che porteremo avanti già da domani sera sarà già portata avanti di qualche colpo. Quindi vedremo domani sera cosa succederà fra Cagliari e non solo, ma anche Torino. Quindi io ho dato la ruota di Cagliari come ruota principale con l'ambata che vedrete fra poco, ma anche il vertibile perché può succedere questo. Guardate, innanzitutto volevo salutare l'amico Riccardo che ha vinto per ben due volte grazie al sistema dell'ambata contatta, quindi mi ha conosciuto che poco. Lui mi diceva nei messaggi, se ti avessi conosciuto prima probabilmente avrei già vinto molto e molto più spesso e volentieri. Quindi guardate qua, lui mi conosce, il mio amico Riccardo, 27 quello di Cagliari lo segue, guardate dove arriva. Quindi 5, 10, 15, 20, 25, quanti ce n'è di questi casi? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, insomma 27 Palermo e Genova, 27 ma io, Riccardo gli ho anche detto, giocati anche il vertibile, cioè 27, 71, 27, 72, ambo e ambetto. Perché può succedere che arriva l'ambetto, non solo l'estratto, quindi in una giocata semplice che si può fare con l'ambata contatta, si può giocare i due estratti, l'ambo e l'ambetto e quindi vai a beccare qualcosa. Pochi colpi, guardate, pochi colpi di gioco, uno subito, ma subito, primo colpo di gioco arriva al 27, non c'è il 72, ma Riccardo si porta a casa qualcosina, 25, 83, subito 27 Palermo. Guardate, un colpo solo, questa è l'ambata contatta, ragazzi, ma quanti scontrini di questi mi arrivano? Ora, piano piano, ve li farò vedere a ogni video che farò, perché almeno vi rendete conto che questo sistema è veramente una bomba, è una bomba, 27 Palermo, e allora lui mi contatta sul cellulare, mi manda l'attestato di vincita. Marcus, ma questo 27 dove andrà adesso? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, Cagliari e Torino, ma ricordati di fare l'ambo e l'ambetto, perché se può arrivare il 27 e il 72, o il 27 e il 71, può succedere di tutto. Primo colpo di nuovo, 27 e il 71, quindi non solo vince il 27 a Palermo, ritorna al 27 a Cagliari e guardate qua, lui si ribecca al 27 e il 71, ambetto secco. Riccardo, hai visto che funziona? Ma non solo Riccardo, come tutte quelle persone che mi stanno contattando, quindi vedete che benissimo potete fare una previsione da voi stessi, mi raccomando, guardatevi l'ambata contata, sono menoso, sono noioso, ma quando ci sono dei piccoli risultati, ma costanti, potrebbero venire anche degli ottimi risultati se aggiungete altri numeri, e quindi non solo, ambo eterni. E quindi attenzione, questo è un sistema che funzionerà sempre, vi farà sempre vincere, quindi non è detto che dovete sempre perdere, dovete giocarevi l'ambata contata. Non solo Riccardo, ma tanti altri come voi giocano le ambatte contate e vanno a vincere, guardate quante c'è, c'è una fraconata, questi sono tutti i vostri, vi faccio vedere velocissime, questo è un 56, pensate, un altro ragazzo, appena mi ha conosciuto su Whatsapp, subito, prima ambatta, non era questa qua, mi sembra il 20 di Bari, e poi dopo il 20 di Bari un altro come Riccardo, al secondo colpo il 56, perché avevamo menzionato il 56 di Bari e Venezia, che è arrivato proprio al primo colpo su Venezia, guardate qua, quindi non solo, questa è un'altra ambata, vedete, e quindi si può vincere anche con un numero solo, subito, e quindi non è detto che bisogna giocare tantissimo e strazionarci a sogni giocate, peccato che il 26 di Firenze e Roma non è arrivato, però quella è stata un'occasione come il 90, che purtroppo è andata fuori, eh, lo so, quindi l'ambata contata, ma non solo quello, ma anche tutte le previsioni che uno studia, non possono arrivare subito al momento giusto, ma possono arrivare dopo pochi colpi di gioco, o addirittura dopo tanti colpi di gioco, si intende nei 7-11 colpi, chiuso parentesi, allora, Firenze e Roma, questa chi lavora a proseguire, 26-25, Ambo e Ambetto, Firenze e Roma ancora due colpi, eh, mi raccomando, solo due colpi che lavora a seguire, poi basta, fermatevi, perché se non esce è inutile, però vi ricordate che il 26 è ancora attivo su Firenze e Roma, non è ancora arrivato, e quindi 26, specialmente il 26-80, 85-86, con questi probabilmente potrebbe essere ancora fattibile nei prossimi due colpi, mi raccomando, colpi fattibilissimi fino ad arrivare a nove colpi, ok, quindi questo è inteso come, per chi vorrà proseguire ancora questa previsione, poi logicamente si conclude lì, nuova previsione, adesso la andremo a vedere, ma prima la classifica del 90 rimane tale quale, quel 90 di Cagliari di nuovo Torino, quindi ragazzi, ruota sempre lì, siamo sempre lì, Bari, Palermo, Roma e Torino, queste sono le ruote, in particolare Torino, provo a sbilanciarmi, ma non penso, perché Torino dovrebbe avere la figura 9 insieme al 90, quindi o 45 o 54, questo Torino potrebbe portare o il 45 o il 54, mentre Roma, se non sbaglio, 27 e 72, ora, questa è una cosa detta così, potete farvi delle valutazioni voi stessi, adesso non sto a mettere un'altra previsione, però queste sono ancora le ruote standard della classifica integrale del 90, due fuori pista di nuovo, quindi Cagliari e Cagliari, e poi è successo un altro fuori pista che era, mi sembra, Genova, adesso non mi ricordo più, vabbè, comunque, questi due fuori pista adesso, vediamo se adesso vanno a riposizionare i 90 su queste quattro ruote, quindi Bari, Palermo, Roma-Torino, Torino 45, 54, 90, Roma 27, 72, 90, queste uniche cose che vi posso dire per gli abbinamenti di Roma-Torino dovrebbero essere quelli. Non perdiamo altro tempo, passiamo subito quindi alla nuova previsione, allora, quattro spie, infatti nel messaggio nella community l'ho messo questa mattina, ci sono quattro numeri che portano il numero su Cagliari, guardate qua, due volte 27, due volte 33, anzi una volta 33, due volte 57, una volta 67, collochiamo un po' un attimino questi numeri e andiamo a vedere di che ruota sto parlando, quindi 27, 33, 57, questo è l'otto più più, mi raccomando, nella vostra, ve lo faccio poi rivedere, allora, vediamo un attimino di quale ruota sto parlando, ovviamente Cagliari, quindi quando si accendono, per modo di dire, queste spie, questi sono i numeri che arrivano prima del numero 24, quindi Cagliari, prima del numero 24, si devono manifestare uno o più numeri prima del 24, qui addirittura ne abbiamo quattro, abbiamo quattro numeri, ma non solo, si sono ripetuti addirittura due volte sia il 57 che il 27, guardate qua, giovedì già il 27 arriva, per la seconda volta, perché prima ancora di nuovo il 27, guardate qua, poi di nuovo, guardate, il 57, il 67, il 33, guardate che roba, tutti insieme, sempre a fine ottobre, adesso siamo ai primi di novembre, quindi ragazzi, siamo veramente avanti con questa previsione, vedete, 27 di nuovo, 27, 27, 27, 57, è tutto così, vedete, guardate, qui adesso dovrebbe arrivare, vedete, e poi dovrebbe arrivare il 24, quindi primo schema che vi fa vedere all'8++, chiaramente, guardate qua, quindi studio, aspettate qua, simpatici e spie, mi raccomando, questa è la paginata dove dovete andare per ogni numero, Cagliari, Cagliari, allora, se non c'è la ruota, e poi il numero 24, andate qua nella barra rossa, scritto in rossa, e poi qua vi dice tutto, vedete, tutti questi numeri, guardate la scala dove li porta, in alto, più in alto di tutti, quindi sia il 57 in alto di tutti, il 27 e il 33, e poi anche l'8 in parte, ma in ritardo, indietro indietro, però, poi il 67 siamo a 5, quindi i massimi, le massime colonnine alzate sono proprio le 27, il 33, il 57, il 67 e l'8, tutti questi numeri sono arrivati prima del 24, che questi dovrebbero pronunciare alla grande il 24 Cagliari, ma non solo, questo 24 di Cagliari può arrivare a Torino, perché non solo c'è il calcolo nuovo, nella nuova condizione, nella nuova tecnica, ma, persino l'ammata contata, dal 24 e il 42 Cagliari e Torino, quindi che cosa può succedere? Può succedere, come è successo a Riccardo, che può arrivare un ammetto, su Cagliari, e può arrivare anche un bel, guardate qua, 27 e 71, come è successo a Riccardo, può arrivare invece un 24 e 42, su Roma e Torino, scusate Cagliari e Torino, quindi attenzione, questo è l'ambo, diciamo jolly, che si può giocare come 25-26 su Firenze e Roma, ma questa volta abbiamo una differenza particolare, che abbiamo addirittura 4 spie accese, e abbiamo anche i livelli di uscita che sono pazzeschi, e adesso andremo a vedere passo dopo passo, ovviamente, tutto quello che ne consegue, quindi questo così, buttiamo giù un attimino l'8++, questi sono gli schemi, guardate qua, il 24 arriva due volte Cagliari e Torino, quindi questo è il primo novembre, poi mi sembra che qualche stazione indietro di nuovo, su Roma il 24, quindi il 24 ancora Cagliari e Torino, ma specialmente avete visto il 24, guardate qua, lo pronuncia proprio, quindi guardate poi la condizione della linearità del numero, quindi attenzione, questo è il grafico lineare, come ben sapete, e quindi verso gli 8, 7, 8 sempre dato, quindi molto velocemente, siamo già 8, quindi attenzione, 4 spie accese più la frequenza, siamo in ottimo, siamo in un buon pronostico davvero, guardate qua, e invece questo è il 42 di Cagliari, allora io vi ho fatto vedere solo, Cagliari il 24 e il 42, guardate se allinea, quasi il 42 di Cagliari, quindi attenzione anche per Torino, quindi Cagliari e Torino 24, 42, come Ambo e Ambetto, e può succedere come è successo Riccardo, ma più tanti di voi comunque, è uscito Lambo secco, addirittura Ambetto, quindi non c'è solo il caso di Riccardo, ma tantissimi casi vostri portavano, Lambo e Ambetto, mi ricordate il 6,60 della signora, su Venezia, due colpi, boom, 6,60 Venezia, e quindi attenzione, previsione, eccola qua, Cagliari 24, 71, 72, 73, 79, bombe, queste sono 4 bombe per il 24 di Cagliari, eccolo qua, 24, 42, Ambo e Ambetto, Cagliari e Torino, sono due ruote di gioco, ma il 24 è dedicato a Cagliari con questi, quindi poi, se volete fare anche su Torino, tutto è nazionale, se volete farlo, liberissimi di farlo, ma Cagliari dovrebbe arrivare con questi, quindi siamo a 24, le posizioni sono queste, mi raccomando, terza e quinta, posizioni per 24 di Cagliari, la terza è fortissima e la quinta, terza è più forte, in parte la quinta, quindi attenzione al Cagliari 24, poi lo schema che vi ho fatto vedere è anche per Torino, quindi terza è quinta, seconda è quinta, le parti in giallo e dove c'è il più sono le posizioni del 24, se è su Cagliari e Torino, quindi 24, 42, come Ambo e Ambetto, Cagliari e Torino, ma anche il 24 su Torino, anche su queste posizioni, quindi avete un pronostico completo, ragazzi, più di così, una sola previsione, non 500.000, come mai mi conoscete da anni, e se va va, ma come vi ripeto, poche previsioni, non 500, io non so come fate veramente a giocarvi 7-8 previsioni alla volta, devo ancora capirlo adesso, comunque, vabbè, una previsione si parte da domani sera, questa è già avanti, quindi già avanti di 4-5 colpi addirittura, quindi portiamola avanti qualche colpo, vedete che il 24 dovrebbe già sortire come il 61 e il 41 di Genova, vi ricordate il 61 a Palermo, il 41 di Genova e poi altri che abbiamo vinto in precedenza, come vi dicevo prima, dispiace molto per il 26 di Firenze e Roma, però quel 26, ve l'ho detto, ancora attivo su Firenze e Roma, chi vorrà giocarlo come Ambata, ma anche come 26-25, o 26-62 Ambo e Ambetto e Firenze e Roma, lo può fare, perché il 62 anche quello può arrivare su Firenze e Roma, come 24-42, anche il 26-62 Firenze e Roma Ambo e Ambetto, vi ripeto, l'Ambata contata fa sviluppare delle condizioni eccellenti sulle ruote, quindi attenzione, tutto non è perso, si può continuare anche quello lì, di Firenze e Roma, ma 26 e 25 Ambo e Ambetto, oppure 26-62 Ambo e Ambetto, fate voi, le Ambatte sono quelle su quelle ruote, però io adesso do priorità a questa, perché veramente dopo 4 spie accese, fa ben sperare questa, questa è veramente veramente tosta, quindi 24 su Cagliari, ma anche su Torino come Ambatte, vedete, queste sono le posizioni, ma per Cagliari questa, quindi 24-71-72-73-79, abbinamenti fortissimi per il 24 di Cagliari, e il 24-42 Ambo e Ambetto, Cagliari-Torino. La condizione per il 90, ve l'ho già detto prima, e rimane tale quale, Bari, Roma, Palermo e Torino, Bari, Roma, Palermo e Torino. Tutto qui, noi ci risentiamo, passate bene una serata e alle prossime news da Marcus è tutto, ciao e ancora buon inizio di weekend a tutti. Ehi, non dimenticate di iscriverti, ma soprattutto attiva la campanellina, perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video. Grazie.